La legge che è stata approvata oggi in Consiglio regionale si è aperta la porta al merito nella valutazione dei dipendenti regionali e quindi penso un risultato importante nella gestione del personale. Inoltre con questa nuova legge abbiamo anche posto le basi per un sistema più trasparente, sicuramente nella valutazione e quindi poi nella distribuzione delle risorse al personale, delle risorse accessorie, ma anche in quella che è la gestione generale del personale. Quindi sono molto soddisfatta, ringrazio tutto il Consiglio regionale, la mia maggioranza, ma anche l'opposizione per l'atteggiamento responsabile che hanno dimostrato di fronte a un lavoro che è stato concertato con i sindacati e che quindi anche i sindacati hanno avuto il loro ruolo importante in questa legge.